più un'esclusiva degli astronauti, ma lo vedete chi sta per andare nello spazio? Proprio lui, il capitano Kirk, quello dell'attore di Star Trek e non è il solo. Sentiamo. Il capitano Kirk della serie di fantascienza Star Trek a 90 anni torna nello spazio e questa volta nella realtà. L'attore canadese William Shatner è entrato nella cultura...